in questo episodio è out here family siete pronti 3 2 1 guardate è tornato a lasciare tutte le impronte tutto questo è pieno di regali una montagna così di regalo natale tornato ti ha portato una montagna di regali andiamo a vedere scendiamo a vedere ha mangiato tutto sì si vuoi portare questo infatti bello non siamo esce un'altra volta babbo natale almeno noi ci siamo appena alzati eh ci siamo appena svegliati questa è la nostra camera la mattina di notte non so cosa succede perché esplode tutto e quindi è tutto vero non c'è più però eh non lo sappiamo se c'erano non c'erano andiamo vieni 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 a vedere vieni a vedere vieni a vedere guarda mi ha lasciato le impronte guarda 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 lì un albero un vieni c'èboo Per Lollo No, non si è rotto Per Lollo Per Lollo Per chi dice C'è qualcosa per Lorenzo Eh, è per Lollo tutto questo O per Ginny Per tutti e due Per Lollo Eh, si per Lorenzo Mi ha capito Queste sono le impronte con i piedi Le ha fatte il babbo Le ha lasciate con i piedi Hai visto Hai visto? Con i piedi Eh Di chi sono tutti i piedi cari Mi ha visto Mamma, si prendi, prendi Guarda, ha mangiato tutto Ha mangiato tutti i biscotti Ha mangiato tutto il latte Hai visto che ha mangiato tutto? Papi Papi, apri, vedi che cos'è Cosa ti ha portato Cosa ti ha portato Che cos'è Che cos'è Che cos'è Che cos'è Che cos'è cosa ti ha portato? mamma! Masha! vai scarta! apri tu, apri! Masha! è più! hai visto? è vero? eh si! è vero Masha! ti ha portato Masha! vai Masha! è bella! apri! apri! vai! voilà! wow! è Masha! canta anche, senti! senti? eh? togli, mamma togli il Masha! aspetta amore! aspetta amore! stai aiutando vedi? è legato! papà! guarda amore! è bettina! guarda amore! guarda! guarda! oh! oh Masha! oh Masha! è pesatezza povera Masha! ti piace amore! ti piace? è bello! è tua Masha! è tua! ti ha portato a babbo! ti ha portato a babbo! guarda! anche i vestitini! guarda! ci sono anche i vestiti per Masha! questi! la possiamo cambiare quando vuoi! hai visto? io puoi mettere l'elastico come lo metti tu! eh! si! la puoi pettinare! c'è il naso! c'è il naso! tagli il vestito! e si mette questo! guarda! qui qua! guarda! vedi? che ottima! wow! come no? wow! ciao Masha! questa Masha non cammina! voglio ridere una mano! e devi prendere in collo perché non è capace di camminare! capito? aprivi un braccio! aprivi un braccio! aprivi un braccio! questo! questo! quella di Lorenzo! si! quelle di Lorenzo! ci c'è scritto gimera! guarda! prendi questo! vai! guarda! quella mia mamma! prendi questa! grazie Ginni! prendi mamma! vai! apri! 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 ok ok massa apri anche tu puoi aprire anche mascia aiutare aiutare la tira nasce che cos'è e così ma come come bello e grande e grande lo samuele tieni parti di mascia orzo orso tieni c'è mascia ti è piaciuto è stato bravo questo babbo e mamma non si è sbagliata questo secondo me questo mi sembra che è di lori lori apri vai lori già sa come deve fare vero geni vai apri vai lori apri che ci sarà dentro che ci sarà dentro che c'è dentro è per le menzuki è una lumaca è una lumaca qui si vuole la carta tieni tieni prendi la carta rompi la carta vai rompi la carta vuoi aprire il mio dai apri il mio tieni apri il mio vai vai apri il mio apri il mio vai è una stella vai no non è di geni è di mamma e lorenzo lo sta aprendo aprirò anche tu insieme a Lollo vai fattilo insieme guarda una scatola mi serviva una scatola quella cosa che mi serviva tanto grazie a tutta la famiglia autieri speriamo speriamo io e gli elfi che regaliamo i cari vi siano piaciuti buon natale a tutti ci vediamo il prossimo anno no eh questo è per me questo è per me questo è per me questo è per me ma questo è di papi come si aveva portato a papà è un po' piccolino però non sei stato molto bravo eh un cappello non ho capito lei tu puoi le impronte un cappello ma lei le impronte ma ti sa che bene bravo babbo auguri buon natale buon natale buon natale buon natale auguri buon natale auguri di buon natale buon natale ti auguri Grazie a tutti.